Solastalgia è lo stato di angoscia che affligge chi ha subito una tragedia ambientale provocata dall'intervento maldestro dell'uomo sulla natura. Il termine è un neologismo coniato dal filosofo ambientale Glenn Albrecht, un australiano che ha descritto agli inizi di questo secolo gli effetti dannosi sulla salute mentale degli abitanti della regione australiana di Upper Hunter, che subivano senza possibilità di controllo, lo sconvolgimento ambientale, legato allo sfruttamento intensivo delle miniere di carbone a cielo aperto. Il termine solastalgia deriva dalla crasi, cioè dall'unione di due parole in una sola, la parola latina solarium, che significa conforto, e la radice greca algos, che significa dolore. Per Albrecht, la solastalgia è un tipo di nostalgia di casa o malinconia che provi quando sei a casa e il tuo ambiente familiare sta cambiando intorno a te, in modi che ritieni profondamente negativi, e l'ha assimilata alla sindrome da sradicamento, propria, ad esempio, delle persone deportate dalla propria terra. Gli abitanti della Upper Hunter Valley erano infatti nostalgici, addolorati, ansiosi, arrabbiati, irrequieti, depressi, con la sensazione di alienazione, di aver perso la speranza e di non poter essere aiutati, proprio come se fossero stati rimossi con la forza dalla valle, ma non era successo. Era la valle ad essere cambiata intorno a loro. La sindrome è completata dal coinvolgimento somatico, disturbi del sonno, coinvolgimento del sistema immunitario con vulnerabilità a malattie psicosomatiche, alterazione dei ritmi biologici ed impulsi suicidari, ed impatta anche sulla coesione dei nuclei familiari, sulla relazionalità sociale e sulla comunità. la sua nostalgia interessa in particolare i bambini e i giovani, gli agricoltori e le comunità tribali. Albrecht ha scritto «Gli aborigeni australiani, i navao e qualsiasi popolazione indigena hanno provato questo senso di dolore e disorientamento dopo essere stati sfollati dalla loro terra». «È ragionevole pensare che in passato questo dolore per lo sconvolgimento ambientale sia stato inflitto, senza che nessuno se ne accorgesse, dalle potenze coloniali che hanno sfruttato quello che viene chiamato Terzo e Quarto Mondo». Attualmente la sua nostalgia non colpisce solo le persone che vivono nei pressi di miniere o di siti di fracking, o in aree colpite da fuoriuscite di petrolio, o da eventi climatici estremi, come gli uragani. È una condizione globale, sempre più condivisa per l'inarrestabile degrado dell'ambiente che può paralizzare e accentuare il nostro senso di impotenza. Albrecht ha anche studiato gli effetti psichici della siccità persistente legata al riscaldamento globale sulle comunità del New South, quel. «E la siccità, alternandosi ad uragani, sta invadendo progressivamente l'intero globo». «La siccità potrebbe colpire oltre i tre fatti della popolazione mondiale, privando…» «Ma la sola stagia può essere la molla per cambiare. Greta Thunberg, ad esempio, quando aveva otto anni, fu informata dal padre delle catastrofi ambientali in corso e di quelle future. E ciò ebbe su di lei un effetto sconvolgente. A undici anni smise di parlare e di mangiare e furono diagnosticati la sindrome di Asperger, il disturbo ossessivo-compulsivo e il mutismo selettivo. Fu così che dal problema lei divenne la soluzione. «Perché, così diceva, non sei mai troppo piccolo per fare la differenza». «Per più di 30 anni la scienza è stata cristallina. La situazione è stata cristallina». «How dare you continue to look away? E come here, saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil and that I refuse to believe. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Thank you. La resilienza si deve però manifestare a vari livelli, non solo eliminando o riducendo le proprie attività non essenziali, ma anche impegnandosi. Impegnandosi nel volontariato ecologico, ad esempio. Impegnandosi nel far pagare il riscaldamento globale a chi l'ha determinato. Quando i livelli creano polsi profondi, sia sulla testa viene utilizzato per i fornelli e per il riscaldamento. Gas naturale e petrolio vengono entrambi utilizzati nelle centrali per produrre energia elettrica. Un altro tipo di combustibile è fotografico in materiale solido. Il carbone viene estratto scavando miniere sia vicino alla superficie che emerge. I combustibili fossili sono ottime fonti di energia. Una tannica di benzina permette a un'auto di percorrere centinaia di chilometri. Sono ambientate. Tuttavia, bruciare combustibili fossili produce materiali di scarto che inquietano l'aria e l'ambiente. Te ne puoi rendere facilmente conto se apri il finestrero dell'auto mentre viaggi in mezzo al traffico. Impegnandosi contro i rincari delle bollette che ricadono sulle fasce di popolazione più deboli, mentre i governi dovrebbero vietare, o tassare fortemente, i consumi anti-ecologici. Il scioglimento dei ghiacci e aumento del livello dei luciani, perché li usiamo ad un ritmo estremamente più veloce di quello che serve alla Terra per riformarli. Alla velocità con cui li stiamo usando, probabilmente, li esauriremo in meno di 300. I reini che Hercules come missili di media alta quota, i Patriot divennero popolari dopo la guerra del Golfo, dove furono ampiamente un missile lungo 5.31 metri. Impegnandosi perché le guerre, che sono un grande incentivo al consumo di combustibili fossili, finiscano subito. Carlin Petrini, il fondatore e presidente di Slow Food, ha lasciato la presidenza della sua associazione, dichiarando La situazione del mondo è molto grave. Abbiamo combinato degli sconquassi biblici. Stiamo conducendo il clima della Terra verso un deterioramento irreversibile. La politica, al grado delle denunce degli scienziati, non fa nulla. Ogni anno le governance mondiali si radunano da qualche parte Non abbiamo più tempo, se la politica non si muove, non sa essere visionaria per salvare il pianeta. Allora deve farlo la società civile. Dobbiamo farlo noi. Deve farlo l'umanità intera. In questo senso intendo che dobbiamo fare politica non per diventare un partito, ma per costringere i politici ad agire. Dobbiamo implementare il nostro attivismo, non possiamo più fermarci. Dobbiamo cambiare il paradigma che oggi domina il pianeta. Dobbiamo cambiare il pianeta.